alle abitazioni della squadra non entrate per favore se non mi cassino per favore mi sposto ma salterò un'altra c'è l'altra macchina dietro è l'altra per favore Grazie a tutti. Grazie a tutti. La Zetic ha voglia di fare, si vede, la Zetic se la porta fino in fondo, non la perde, non gliela tolgono mai, grande azione di La Zetic, ancora calcia! Marco La Zetic si presenta così ai suoi nuovi tifosi. Problema muscolare forse per la Zetic, si è fatto male Marco La Zetic, e lo dicevamo che da un punto di vista fisico in questo momento aveva delle difficoltà legate ai carichi. No, si tiene il braccio però.